buongiorno a tutti presentiamo due inneschi nuovi per quanto riguarda la pesca del storione e del siluro abbiamo questo pellet semi morbido come potete vedere di millimetri 24 si fora tranquillamente con un ago normale e ha un tempo di scioglimento di 24 ore mentre invece sempre della stessa linea abbiamo anche il 50 mm di dimensione come potete notare importante questo è già preforato e ha un tempo di scioglimento di 48 ore può essere utilizzato sia per la pesca dello storione che per quanto riguarda la pesca del siluro nelle acque commerciali nei laghi per completare l'utilizzo sempre di questi pellet abbiamo anche il sudip con lo stesso aroma dove basta immergere all'interno o spargere sopra al pellet e avrà comunque una durata importante e avrà la possibilità di emanare in acqua un perfetto odore di ricerca dei pesci queste le ultime due esche e il dip della linea trapper pellet e additivo eccoci eccoci